Tiziano Carrara, segretario del circolo fotografico Moroni di Albino, un altro concorso, il vostro fiore all'occhiello possiamo dire, quindi sono i giorni più importanti per voi? Esatto, sono i giorni più importanti, siamo arrivati al momento della premiazione in cui tutti i 53 fotografi partecipanti e le 210 fotografie in gara sono state messe in mostra e soprattutto sono state stampate e rese fruibili. Sono infatti da due settimane disponibili alla vista, le potete vedere qui dietro di me e rimarranno visibili ancora per una settimana all'interno del palazzo comunale. Sabato sera, appunto il 26 alle 8 e 30 andremo a fare la premiazione, quindi finalmente sveleremo i vincitori di questo concorso per tutte le categorie e per la categoria principale. Come è stato organizzato quest'anno? Beh, quest'anno abbiamo avuto la grossa novità che le fotografie non venivano più presentate in formato cartaceo ma venivano presentate in formato multimediale. Questo per permettere anche a chi proveniva da più lontano, quindi da tutte le parti d'Italia, di mandarci le fotografie con molta più facilità. Poi la giuria ha scelto quelle più meritevoli che sono state stampate e sono comunque presenti fisicamente nel luogo della mostra. Per noi è importante la stampa dell'immagine perché rimane il modo migliore per fruire della sua bellezza. Qualche tema in particolare? Beh, sicuramente quest'anno il tema che è stato più combattuto diciamo è quello del ritratto e anche il ludo femminile direi che è stato per quest'anno questa novità molto scelto come tema di sviluppo. Il travel rimane sempre il tema principale ma anche il bianco e nero. Sono un po' le tematiche che maggiormente sono state scelte dai nostri fotografi per cimentarsi in questo concorso. Fotografi che arrivano da dove? Beh, fotografi che arrivano un po' da tutta Italia. Abbiamo un po' una rappresentazione maggiore naturalmente dalla Lombardia, dalla provincia di Milano, Mantua, Brescia, ma chiaramente abbiamo anche provenienti dalla Liguria, dal Veneto, dalle regioni limitrofe insomma. Ricordiamo quindi l'appuntamento, gli appuntamenti perché è possibile prima vedere in comune le opere e poi arrivare anche alle premiazioni. Certo, la mostra rimane sempre aperta durante gli orari comunali nell'atrio del comune, lo rimarrà anche per la prima settimana del mese di novembre, mentre invece diciamo il momento clou sarà sabato sera 26 alle 8.30 con la premiazione del concorso e la partecipazione di tutti i giurati e i partecipanti.